Le fasi dell'arresto in pieno giorno, vicino alla fermata del tram, le auto dei poliziotti bloccano il carico di droghe in consegna, uno dei tanti fatti arrivare a Padova per poi essere smerciato in tutto il nord Italia. La squadra mobile ha sgominato una banda di trafficanti al totto dal mercato, oltre 40 kg di cocaina ed eroina purissime. Il valore della droga sequestrata monta ad oltre un milione di euro, ma venduta avrebbe fruttato il triplo. In carcere sono finiti tra nigeriani e uno spagnolo, per una donna nigeriana e una donna spagnola invece è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Nelle immagini si vede anche una delle ultime compravendite avvenute a febbraio in stazione a Padova, quando una quarantana nigeriana ha ritirato 182 ovuli di cocaina nascosti nelle bottiglie del latte. L'indagine parte dall'attività che quotidianamente svolgono i nostri, della squadra mobile, le nostre pattuglie sul territorio. E hanno intercettato, come capita molto spesso, uno spacciatore al dettaglio, per così dire, e da lì si è partiti per arrivare a un livello superiore, molto superiore, un livello in cui compaiono dei soggetti inseriti in un traffico internazionale di stupefacenti. Tutto è iniziato con l'arresto di un pusher nigeriano. Nel settembre del 2021 i poliziotti nel suo cellulare hanno rintracciato i dati di un versamento di denaro nei confronti di un 35enne connazionale, residente a Padova, che si è scoperto poi avere un ruolo di spicco nella gestione del traffico di cocaina ed eroina. Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 i poliziotti hanno sequestrato 42 kg di sostanza stupefacente, individuando un covo dove veniva stoccata la droga, un appartamento di via Curiel in zona stanga e un altro appartamento utilizzato dai pusher a Cadoneghe. I poliziotti hanno sequestrato un libro mastro e scoperto il coinvolgimento di un altro nigeriano che utilizzava un appartamento di legnaro dove si recava per approvvigionarsi una corriere nigeriana residente a Casale Sul Sile. La squadra mobile ha ricostruito la rete, arrestando anche un 31enne nigeriano di Treviso, individuando una coppia di corrieri spagnoli di Saragozza che facevano arrivare la droga in Veneto a febbraio. In provincia di Lodi erano stati fermati con 15 kg di stupefacenti in auto.